Noi abbiamo i migliori marchi, veramente sull'abbigliamento, sullo sci, sullo scarpone soprattutto, facciamo le solette conformabili, veramente un negozio qualificato. Qui la gente sa che i cartelli parlano chiaro sulle strade, se non trovi altrove, da siccardi trovi tutto. Possibilità di acquisto, soprattutto noleggio, e soprattutto noleggio stagionale, perché ormai l'economia è quella che è, perciò noi pensiamo che il noleggio stagionale, soprattutto per i bambini che crescono velocemente, sia l'ideale. Funziona che uno arriva qua, con i figli, viene da noi, tecnici operanti, danno tutto, la possibilità di noleggiare sci, scarpone, bastone e casco a un prezzo molto interessante. Perciò ecco lì che abbiamo risolto il problema per tutta la stagione. E beh, possiamo fare una panoramica proprio nella nostra vetrina. Una volta si sciava con dei sci lunghi, stretti, invece adesso grazie al carving abbiamo migliorato moltissimo le prestazioni senza fare fatica. Lo sci è sempre molto più... penso che lo sci sia ancora quello che tira di più in questo momento. Lo snowboard va molto bene, però lo sci resta sempre il numero uno, soprattutto qui ad Artesina che abbiamo delle piste indicate e molto trattate bene per lo sci. Un nuovo punto vendita, qui proprio di fronte alle piste, sottostante all'albergo Marguareis, curato dal nostro Sergio che lo cura molto bene. e niente, io vorrei dire una cosa, ormai Sicardi lo conoscono, va bene, però quello che conta ormai è Valentina Sicardi nel mio negozio perché è lei che conduce tutte le sue proprie attività.